Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Iniziamo questa nuova Domenica Ludica, che vi ricordo, trasformata solo per ora, fino a fine estate ragazzi, che sennò veramente ci si sbolle, in un video invece che in un evento live streaming, in cui parleremo di tutti, faremo un sunto praticamente della settimana lavorativa dei nostri progetti, di quello che abbiamo ricevuto, di quello che vogliamo fare, e anche magari novità o notizie, informazioni che appunto vorremmo portare sul canale, alla vostra conoscenza. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Iniziamo appunto parlando della nuovissima edizione di Warhammer 40.000, e in questi giorni, se non erro, ieri o ieri l'altro, insomma due giorni fa, la Games Workshop ha mostrato la prima scatola, che ora vi faccio vedere un po' di immagini, o anche direttamente un video, è la prima scatola della nuova edizione, della non edizione di Warhammer 40.000, che si chiama Indomitus, e ragazzi è qualcosa di spettacolare. All'interno ci sono due eserciti completi, ovviamente espandibili, è normale, però due armate complete per iniziare a giocare, e all'interno ci sono i Necron, da una parte, con tutte le nuove spettacolari miniature all'interno, cioè veramente da sentirsi male, e dall'altra parte ci sono gli Space Marine, che poi ci sono tutti quanti i trasferelli, quindi li potete fare un po' del capitolo a chi preferite, comunque di base sarebbero i nuovi Ultramarine, gli Intercessor e i primari, guidati direttamente dal robot Gilliman. Le miniature sono rinnovate, anche perché gli Space Marine hanno addosso, come vi dicevo nella domenica ludica precedente, l'armatura Mark 10, quindi vedete sono proprio differenti, e poi a me piace questa idea che sembra che vogliono un po' fondere Legend of Sigmar con Warhammer 40.000, infatti vediamo questi Space Marine, che hanno queste nuove armature potenziate addosso, e sotto hanno delle vesti, tipo delle vesti medievali o cose del genere, tipo da monaci, guerrieri e cose varie, sono veramente molto belle. La scatola non penso sia ancora uscita, penso sia preordinabile, si chiama Indomitus, e io vi consiglio di comprarla perché andrà sicuramente a ruba, e non so se dovrebbe costare 160 euro o qualcosa del genere, però dentro ci sono ragazzi due eserciti completi, e la GV proprio l'ha appellata come la scatola di Warhammer, non di Warhammer 40.000, di Warhammer, di tutto quanto la loro ambientazione, sia fantasy appunto che sci-fi futuristica, più bella mai creata. Quindi secondo me è un pezzo da collezione da avere assolutamente, mi piacerebbe averla, farò il possibile per averla, e dentro c'è talmente tanta di quella roba che una volta comprata, giocherete per mesi, 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 e poi ragazzi, gli Space Marine bellissimi, ma i Necron, che avevano bisogno di un rework già da un po' di tempo, i Necron, quelli nuovi, fanno veramente paura, non mi sono mai piaciuti, sono onesto e sincero, mi ci sto interessando veramente tanto, sono bellissimi. Ragazzi, vi ricordo che noi abbiamo un negozio sponsor che si chiama Gioco Libreria Semola. Noi collaboriamo con questo negozio che ci fa da sponsor, e quando andate a fare un acquisto sul loro sito, in alto a destra c'è la voce Discount. Ci andate a cliccare e mettete il codice Coridan7, come vedete in sovrimpressione, Coridan7, tutto quanto maiuscolo, perché avrete diritto subito a uno sconto del 7%, per ordini superiori ai 70-80 euro, qualcosa che ora non mi ricordo, o comunque sempre sotto i 100 euro, non solo avrete diritto allo sconto del 7%, ma non vi faranno nemmeno pagare le spese postali con spedizioni con corriere in 48 ore in tutto il mondo. Quindi andateci a dare un'occhiata al sito della Gioco Libreria Semola, perché a parte il fatto da paura e le faccio complimenti, è molto user-friendly, non ci si perde quando girate l'intorno, però hanno sempre tutte le migliori novità della Games Workshop, sia per quanto riguarda Age of Sigmar, che è il 40.000 che adoriamo, e vi ricordo ancora, usate il codice, anche se acquistate un colore, il codice Coridan7, così vi fa lo sconto del 7%. Poi uno dei due proprietari, che sono marito e moglie, Corrado, che colgo l'occasione per ringraziare, è una persona ad oro, e ogni volta che fate un acquisto, soprattutto di Warhammer, vi ci mette anche sempre un pensierino, alle volte un segnalibro, magari con l'imperatore di Warhammer, bellissimo, Gilliman, una cosa veramente interessante, e anche un braccialetto, tipo della Black Library, di Warhammer 40.000, e cose del genere. Quindi si vede che ci tengono molto, alla propria clientela, ma soprattutto, ancora di più, a dare un buon servizio, e va sicuro che non è assolutamente da tutti. Andateci a dare un'occhiata. Parlando di stampe 3D, vedete qui c'è un cestellino, con un po' di roba all'interno, abbiamo fatto un po' di stampe, con la nostra Anycubic Photon, che ora vi faccio vedere velocemente ragazzi, poi ci farò un video dedicato a parte, anche perché, accordi che abbiamo stretto con l'Anycubic, prima di far vedere un video dedicato alla loro stampante, bisogna prima farlo vedere a loro e avere l'ok, però comunque vi facciamo vedere un pochino, cosa si è stampato, perché la stampa 3D ci ha preso molto. Ora, ci piacerebbe avere anche la possibilità, di provare una stampante, a filamento, anche perché, per due cose, una che c'ha il piatto leggermente più grande, perché come torno a ripetere, la stampante 3D a resina è perfetta per miniature piccoline, come quelle che vi facciamo vedere ora, dettaglio pauroso, filamento dimenticatevelo, la stampante a filamento invece per fare o strutture edifici, o anche action figure, cose comunque più grandi, anche di 20-25 cm, che non hanno bisogno di troppi dettagli, mettiamolo così, se dovete fare uno scenario, e uno scenario non ha mai bisogno un bunker, un muro, una casa di roccata, per Warhammer 40.000, non ha mai bisogno di 3.000 dettagli, con la stampante a resina non ce la fate, con quell'affilamento magari la lasciate lì per 12 ore, e ve lo tira fuori. Poi, ci sono stampanti a resina, con un piatto così, che vi fanno roba da paura, però tirate fuori 4-5.000 euro, quindi non mi sembra il caso, sicuramente non sono cose appunto, da avere in casa, ma magari per un'azienda, che ha un volume di lavoro, molto molto più ampio, di quello che voi potreste mai avere in casa. Vi faccio vedere un po' cosa si è stampato, sono piccolezze, comunque sono venute particolarmente bene. Abbiamo fatto un piccolo portachiavi, di Baby Yoda, eccolo qua giù, ovviamente dipinto tutto quanto da mia moglie, e devo dire che le faccio complimenti, perché è venuto particolarmente bene, e vedete questa qui non è, quella che potrebbe sembrare una cresta, ma c'è il buchino per metterci il filo, o se no appunto metterlo nel portachiavi, uno ci potrebbe anche fare un pendente, una cosa del genere, bellino. Un personaggio, una miniatura ispirata a una sorella guerriera, una Deptas Ororitas, che ovviamente non sono ufficiali, sono soltanto ispirate, però è veramente molto 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 bella, c'ha un dettaglio dalla Madonna, e non vedo l'ora di farvele vedere, ovviamente dipinte. Un'altra Deptas Ororitas, che ovviamente è un work in progress, perché ci ha dato i primi colori, ma ragazzi al 50% del lavoro la deve ancora finire, comunque vedete anche il mantello, come è venuto, il dettaglio ragazzi che potete raggiungere con la resina, è unico. Un portachiave di BTS, così, non lo so perché mia moglie ha deciso di farlo, c'aveva voglia, è stata una prova, un pendente del lupo di The Witcher, anche qui guardate, è tutto quanto colorato a mano, perché ovviamente la resina che stiamo utilizzando è di colore bianco, un altro pendente, questa volta con il martello di Thor, con una pallina qui al centro, il mago di HeroQuest, che questo non lo so perché l'abbiamo stampato, se hai voluto stamparlo per vedere come veniva, anche perché tanto ce l'abbiamo di già, un barbaro, questo abbiamo comprato il progetto direttamente su un sito, era un progetto a pagamento, e abbiamo stampato questo barbaro, che è veramente una cosa spettacolare, un altro pendente, sempre nello stile dei vichinghi, questo qui invece è tondo, molto 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 dettagliato anche, si è dovuto abbassare molto la luminosità, perché è bianca e riflette, comunque anche questa è la targhettina della Wayland Yutani, della saga di Alien, i datori di lavoro di Ripley, della Nostromo, e l'abbiamo stampata, guardate bello il dettaglio, è veramente spettacolare, e sono tutte cose che vanno colorate. Nel caso vi possa interessare, anche su Facebook, nel market di Facebook, abbiamo già messo in vendita diverse stampe in 3D, se avete bisogno di qualcosa da stampare in 3D, che è come le cose che avete visto, una miniatura, una targhetta, un pendente, pendente, ma anche cose per pimpare i vostri board game, come le navi che vi ho fatto vedere, ad esempio, di The Expanse, oppure avete bisogno delle porte per il vostro, non lo so, Space Hulk, qualsiasi pezzo di cui abbiate bisogno per il vostro board game, o anche cose in più, tipo un pendente, ve l'ho detto, una catenella, un anellino, un braccialetto, qualsiasi cosa, ragazzi, facciamo anche queste cose a pagamento, quindi se ce le volete ordinare, ordinatecele direttamente, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, si fa un bel pacchettino, e ve lo spediamo a casa. Dopo tante peripezie, due anni, due anni di sofferenze, sono riuscito ad avere una copia di Alone, come appunto negli ultimi arrivi che ci sono stati questa settimana, sono riuscito ad avere una copia di Alone, che mi è stata fornita da Board Game Discount, che vedete in sovrimpressione, primo link in descrizione, che è il nostro sito di Board Game, appunto con cui collaboriamo, quindi il sito sponsor del canale. Vi ricordo che tutti i giochi da Board Game Discount, anche quelli che non sono nel catalogo, quando andate a fare un ordine, se il gioco c'è, compratelo punto e basta, tanto non ho un referral code, referral link e cose varie, ma se un gioco non lo trovate in lista, e Alone mi sembra che ci sia ancora, a parte le copie stanno scarseggiando, perché è un Kickstarter, però se non ci fosse, voi contattateli comunque, qualsiasi gioco che vogliate, qualsiasi, non ce l'hanno in lista, li contattate, messaggio privato, vengo dal canale di Coridan, si potrebbe avere questo gioco, ve lo faranno avere, se possibile, al miglior prezzo possibile, e in più, non lo volete pagare in una rata, lo potete pagare in tre rate, senza alcun tipo di finanziamento, e sono finalmente riuscito ad averlo, mi sto leggendo il regolamento, mi garba tanto, anche se, poi ve lo dirò nel video, senza farvi anticipazioni, il regolamento, potevano organizzarlo un po' meglio, è un po' dispersivo fare tre manuali, ne potevano fare uno unico, però il gioco è veramente una figata, ed aveva ragione che lo disse all'inizio, non potevano usare cose coperte da copyright, ma questo è veramente il gioco di Dead Space, e infatti ci si ispira particolarmente tanto, anche Alien, ma soprattutto Dead Space, ed è un gioco che non vedo l'ora di farvi la recensione, mi sto leggendo il regolamento, e soprattutto di portarvi qualche gameplay sul canale, veramente, veramente molto bello ragazzi. Vi ricordo, perché me l'ha fatto presente, sia mia moglie che anche un ragazzo, l'altro giorno, appunto sul gruppo Telegram, ragazzi, importanti, ho fatto un Telegram pubblico, dove tutti quanti possiamo scrivere e confrontarci, quindi non è che io soltanto scrivo e voi leggete, è un Telegram pubblico, aperto a tutti quanti, e dove appunto tutti quanti possiamo scrivere, ovviamente, un Telegram basato unicamente sulle cose, l'argomento che tratto sul canale, quindi due miliardi, fumetti, libri, stampa 3D, romanzi, chi più ne ha più GDR, board game, war game, chi più ne ha più ne metta, anche pittura, appunto, di miniature, ma non è assolutamente, sotto nessuna forma, un Telegram, dove andiamo a parlare di, videogiochi, quindi io di videogiochi, non ne voglio parlare, anche delle nuove uscite bellissime, della Playstation 5, ragazzi, dei videogame, non me ne frega più niente, ve lo dico proprio sinceramente, quindi vi invito, lo trovate secondo link in descrizione, iscrivetevi perché è un Telegram pubblico, dove parleremo di Kickstarter, di progetti, o poi lo possiamo anche fare, magari per organizzarci, perché a me piacerebbe molto, riniziare a giocare di ruolo, GDR, e magari posso scrivere, ragazzi, c'è qualcuno che gli piacerebbe fare una partita con me, a The Witcher, oppure al GDR di Alien, ad esempio, quindi, venite, iscrivetevi, perché è una cosa che ci conto molto, ed è molto importante, è un luogo molto social, appunto, che ho fatto aperto, e chiunque ci può postare, nei limiti della decenza, ragazzi, se cavolate, cose del genere, spam, offese, insulti, bannato sempre, tanto quello poi lo moderiamo io e mia moglie insieme, ragazzi, si conclude che questa domenica ludica, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che vi sia stato, appunto, piacevole, si prende come appuntamento fisso, tutte le domeniche alle 7, fino a quando poi farà un pochino meno caldo, e già ragazzi, sto sudando veramente da morire, non so come ho fatto a un gocciolavi nel video, e lo riprenderemo quando ci sarà un pochino meno caldo, io spero anche di portare tutti quanti i progetti, e le modifiche che volevo fare al canale, anche in tempi brevi, perché abbiamo tante cose che ci volano in pentola, e speriamo, insomma, di riuscire a portarvi sul canale quanto prima, ragazzi, vi auguro una buona domenica sera, e tanto ci rivediamo, come sempre, un video ogni due giorni, ciao ragazzi, alla prossima!